Secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, ieri i tamponi risultati positivi sono stati 221 su un totale di 1.833 test eseguiti. Complessivamente ad oggi in Campania gli ammalati di Covid-19 sono 2.677. Il presidente Vincenzo De Luca intanto ha chiesto al prefetto di Napoli l'invio urgente di altre 300 unità di soldati per rinforzare i controlli nelle strade e favorire la predisposizione di un massiccio servizio di controllo da parte delle forze di polizia e delle forze armate in alcune realtà della Regione dove si registrano picchi di contagio. Nel dettaglio, si legge in una nota della Regione, a Torre del Greco si è registrato un picco di 40 casi e una presenza irresponsabile e diffusa di persone nelle strade cittadine, così a Casoria, a Fragola e in strade centrali di Napoli e in altre città della Regione. È necessario richiamare ogni cittadino a comportamenti responsabili, ma è necessario, evidentemente, un controllo più capillare e anche un'attività repressiva, ha scritto De Luca. Intanto a Napoli si sta sperimentando il cosiddetto casello tampone, il servizio avviato dall'ASL Napoli 2 Nord, sull'esempio di quanto già fatto in Germania e in alcune regioni italiane, tra cui la Toscana e l'Emilia-Romagna. Il paziente arriva in macchina in un piazzale indicato dai sanitari, si ferma presso una postazione dove sono presenti due infermieri ed un medico e senza scendere dall'auto viene sottoposto al tampone attraverso il finestrino. L'intera procedura dura 5 minuti contro le circa 3 ore necessarie per la realizzazione di un tampone a domicilio. In un giorno sono stati effettuati 50 tamponi da due medici e quattro infermieri, per un totale di 150 tamponi effettuati in tre giorni. Per questa ragione abbiamo avviato la soluzione del casello tampone. Si tratta di una procedura estremamente veloce, molto sicura, e che aumenta il numero dei tamponi effettuabili e riduce l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, ha dichiarato il direttore generale dell'ASL Antonio D'Amore, e questo tipo di intervento sarà certamente portato anche nelle altre zone e nelle altre ASL della regione Campania. Grazie. 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 Grazie.